Su Livia si sa poco o niente perché è stata cancellata dalla sua epoca e credo che insomma l'intento di questa di questa serie di questo racconto è quello di riportare il mito di Livia alla luce poterla raccontare in questa maniera in un progetto che mira a raccontare l'epoca dal punto di vista femminile è una cosa assolutamente inedita un progetto che che per quale fondamentale raccontare la verità dei fatti mi è sembrato importante in questo momento quale stiamo vivendo penso che noi abbiamo bisogno delle storie così la nostra storia una storia di una famiglia delle famiglie neanche di una storia del potere la lotta al potere per sopravvivenza il potere nella nella nostra serie è il potere di una donna che ha bisogno del potere per sopravvivere non mantenere il potere fino a se stesso questa cosa mi ha fatto molto ragionare e penso che quando si pensa alle donne al potere e forse ha a che fare più con la sopravvivenza quando tu hai la possibilità di scegliere no di avere la libertà di scegliere per te stessa per quello è già è già potere domina anche una storia d'amore di grandissimo amore michael ha portato nella serie è una grandissima forza credo che insieme siamo riusciti a a costruire qualcosa di più vero di più intimo è una storia d'amore immenso quindi è stato interessante interpretarla